Il primo obiettivo oramai dichiarato è la salvezza. Uno degli obiettivi che si prospetta è la Coppa Italia. Quanto ci credete? Noi non ci pensiamo, anche se è indubbio che arrivare a 5 giornate dalla fine con 14 punti, vincere 1-2 partite, significherebbe il matematico accesso alla Coppa Italia, sarebbe un sogno incredibile. Un premio meritato per i sacrifici della società e dei ragazzi che hanno fatto in questi tre mesi. Si alza dunque la sticella per la Giorgio Tesi Group, obiettivo Final 8 di Milano. Vincenzo Esposito rilancia quindi gli stimoli e gli obiettivi da raggiungere anche per tenere alta la tensione. Una tensione che comunque non sembra essere in calo, visto l'esito della partita di Torino. Ci hanno confermato che questa squadra ha qualità al di là di quelle tecniche, ha personalità, carattere, si cerca, giocano bene assieme e non mollano mai. Quindi è un po' una conferma che è una cosa veramente molto piacevole, soprattutto quando sei in momenti di difficoltà tecnica o fisica come quella che stiamo vivendo in questo momento. Domenica al Palacarrara arriva a Varese di un certo Paolo Moretti, non sarà una partita qualunque, perlomeno per i tifosi biancorossi. Vincenzo Esposito invece pensa a quella che dovrà essere la battaglia sul campo, un match che dovrà essere affrontato con un'infermeria piuttosto affollata. Per una situazione la stiamo smaltendo, quella del problema alla schiena di Ciz e di Filloi va migliorando, quindi speriamo di averli in condizioni migliori rispetto alla gara di Torino. Nolz invece al 90% non sarà della gara perché la contrattura al Polpaccio non è stata smaltita e quindi quasi sicuramente non sarà della partita con Varese. Che cosa temi, che cosa pensi della squadra di Moretti? È una squadra che al momento non ha ancora trovata la quadratura del cerchio, però ha un roster lungo, contando anche i giocatori che sono a disposizione nel roster di più di 12 giocatori. Squadra di talento, è una squadra che ancora non si è sbloccata, speriamo che non lo venga a fare qui a Pistoia. È una squadra molto talentuosa che ha tanti punti nelle mani, noi però dobbiamo giocare in casa e riscattare la sconfitta un po' rocambolesca, quella con Reggio Emilia l'ultima volta che abbiamo giocato in casa, forti dei punti che abbiamo in classifica e della tranquillità che ci ha dato la vittoria in un momento di difficoltà fisica a Torino.